Per oggetto i dipinti delle raccolte reali e delle grandi collezioni inglesi da quelle private alla National Gallery. L'esito fu la pubblicazione di lussuosi cataloghi e la distribuzione delle fotografie a fini commerciali e non solo. Prima che le foto di opere d'arte entrino nei grandi archivi nazionali, negli archivi fotografici dei grandi musei, prima che entrino nelle fototeche degli istituti di ricerca, prima che siano diffuse attraverso pubblicazioni scientifiche e prima che entrino e siano utilizzate nelle aule universitarie, un luogo dove le riproduzioni fotografiche rappresentarono un sicuro mezzo di conoscenza e dove costituirono una palestra per l'occhio fu all'interno delle mostre temporanee. Le esposizioni sono occasioni eccezionali di presentare assieme materiali di provenienza diversa per una durata limitata nel tempo, quasi come uno spettacolo concepito, studiato e inscenato per qualche settimana o qualche mese e in qualche modo irripetibile. Per queste ragioni in genere i curatori delle mostre, in fatto di proposte allestitive, in fatto di percorsi di ricerca, osano di più che in allestimenti permanenti di musei. Le esposizioni non a caso costituirono degli autentici catalizzatori per nuove visioni e nuove attribuzioni. Alcune hanno davvero scritto la storia dell'arte. Nella Londra del XIX secolo, la cui area metropolitana, qui vedete una bella foto di Brompton del XXIII, arrivava a quasi 7 milioni di abitanti. La qualità e la quantità degli sforzi dedicati all'organizzazione di esposizioni e spettacoli per un pubblico scelto, ma anche per il grande pubblico, non hanno davvero precedenti. Tra gli intrattenimenti popolari ricordo il Cosmorama, il Diorama, l'East India House, l'Indian Museum and Exhibition, le Ombre Cinesi, le Lanterne Magiche, i Teatri Meccanici, appunto il Turkish Museum, Panopticon, Panorama, Fantasmagorie, fino ai Musei delle Cere che tuttora vanno per la maggiore. Nell'offerta quindi di eventi culturali in senso ampio, ad inizio del Novecento Londra davvero non ha rivali nel mondo, non solo per numero, ma per qualità, quantità e varietà. Varie erano le operazioni culturali di taglio artistico proposte nel vivace clima culturale della capitale dell'impero britannico. Solo nel quattro, questo almanacco degli eventi, Ears Art, segnalava nella sola Londra più di cento associazioni di artisti, gallerie, scuole d'arte, club e da tempo fiorivano periodici e testate di interesse artistico. Sono stati censiti 317 periodici pubblicati nel Regno Unito tra il 1774 e il 1899 che in modo più o meno esclusivo si occupavano di arte, architettura, collezionismo, arti applicate, design e stampe. Sto parlando di periodici divulgativi. La gran parte di questi si occupavano di recensire le mostre in corso. Il 1774 fu l'anno del primo art periodical. Nel 1899, un anno prima della morte della regina Vittoria, se ne contavano 65. Nella prima decada del Novecento, per esempio, 1901, vedete il frontespizzo del Connoisseur, an illustrating magazine for collectors, che illustra gli interessi alquanto etereogenei della rivista, argenti, mobili, ricami, insomma, in linea con il gusto, naturalmente, il collezionismo e gli arredi di età edwardiana. Ora, se in Francia usciva dal 1859 la Gazette Rosar, in Germania dal 1867 la Zeitschrift für Bildende Kunst e dal 1876 il Repertorium für Kunstwissenschaft, in Italia dal 1898 l'arte e dal 1901 poi la Rassegna d'Arte, per esempio, solo per citarne alcuni. Questo pur variegato scenario inglese comunque non presentava ancora un periodico specializzato, come invece dal 1903 fu il Burlington Magazine for Connoisseurs. Nell'editoriale del primo numero, Robert Dell, che arriva all'obiettivo del periodico dedicato ai conoscitori, riconoscendo sì il valore alle scoperte documentarie per definire il catalogo di un artista, attribuire una singola opera d'arte, laddove non fossero fini a se stesse, ma a mezzo per un autentico apprezzamento estetico, una capacità ritenuta quasi a rischio di estinzione. Poi gruppi di intellettuali, tra i quali Roger Fry, si aggregarono per fondare istituzioni come National Art Collections Fund, cioè per evitare appunto il fuoriuscire di capolavori al di fuori del Regno Unito, quindi l'esportazione, e aprirono anche nuove gallerie. Vengono in mente, e qui ne cito veramente solo due agli antipoti direi, aprirono al pubblico, la Wallace Collection nel 1900, quindi di discendenza aristocratica, e la White Chapel Free Art Gallery nel 1901, dove Samuel Barnett invece si dedicava all'educazione della popolazione del distretto dell'East London, che vedete apprezzare in qualche modo le opere d'arte in galleria. La vitalità culturale di Londra è descritta da Henry James nel 1877, all'impronta ci sono una mezza dozzina di concerti al giorno, c'è una mostra speciale in ogni print shop, se si cammina in una selva di esperienze estetiche, se in una città la cui ispirazione è una sorta di il resume tra le arti della Germania moderna, della Firenze medievale e dell'antica Atene. Non sei, non ti trovi tra i più grandi creatori d'arte del mondo, ma certamente tra i più grandi consumatori. L'offerta è per la più parte straniera, la domanda è estremamente interna. Gli inglesi sono dipendenti in ugual misura e ampiamente dal lusso intellettuale come da quello materiale. Ora, a Londra gli Hunters for Exhibitions rappresentarono una florida categoria di curiosi, inquadrata dai periodici, seguita con rubriche dai quotidiani, oltre che amatori d'arte in questa categoria rientrava una serie di curiosi, anche persone che semplicemente il Grand Tour non se lo potevano permettere e quindi ammiravano nelle esposizioni grandi capolavori che certamente all'estero non avrebbero potuto vedere. Tra i luoghi di cultura più privati va menzionato il Burlington Fine Arts Club di Londra, dove si registra una prima importante apertura al mezzo fotografico. Il Burlington Club ebbe vita dal 1866 al 1951, un'istituzione di primaria importanza, della quale erano membri principali collezionisti, esperti e amatori d'arte dell'epoca. Si trattava veramente di un'impresa culturale di tipo privato, il cui scopo principale era il permettere di esporre, confrontare, discutere, studiare oggetti d'arte in possesso dei soci, attraverso la creazione anche di una biblioteca specialistica e il convolgimento dei più grandi specialisti che organizzavano o incontri, diciamo di tipo informale, dopo cena con condivisione di oggetti d'arte direttamente da casa, oppure esposizioni temporanee strutturate di arte retrospettiva in genere, riservate ai soli soci e ai loro ospiti. Queste ultime erano allestite due volte l'anno, primavera e inverno, al piano più alto della galleria, qui vedete la galleria nella seconda e definitiva sede di Savile Row, la strada dei Sarti ma anche nel quartiere giusto, non siamo lontani da Newborn Street, disegnata da Wyatt che era uno slave professor a Cambridge, oltre che socio, oltre che architetto che si prestò per un disegno di una galleria a luce zenitale che in tutto rifletteva le residenze dei soci in qualche modo. Così come i cataloghi che furono partiti, che furono pubblicati in maniera sistematica dal 1870 in poi, riflettono in tutto quelli del club, delle mostre del club, i cataloghi delle collezioni private dei soci, nella elegante veste grafica con ampi margini. Ora, il club era dotato di una ricca biblioteca, abbiamo solo la lista dei testi alla National Art Gallery, dentro il V&A e era specializzata nelle belle arti. Ora, non ci rimane niente se non questa lista, mi ricordo che era aggiornatissima non solo in fatto di periodici ma anche in fatto di argomenti delle singole mostre trattate e d'altronde di biblioteche ricche era anche dotata la Grosvenor Gallery che era stata fondata da Lindsay tra il 1877 e il 1890 e che poi un po' sulla falsariga del club in qualche modo, anche se aveva scopi anche commerciali, e l'Ateneum Club, ancora esistente, che è sede di intellettuali, cioè ha una funzione in qualche modo passiva, mentre il Barlington Fine Arts Club proponeva eventi, quindi aveva una funzione come istituzione molto direi più attiva. Ora, questo patrimonio librario del club andò disperso per liquidazione nel 1951, decisione unanime, non andò, non ho potuto fare a meno di condividere con voi questa bellissima foto anonima, non andò disperso in seguito al secondo conflitto mondiale, diciamo, per distruzione, per bombardamento, come successo a un altro centro culturale privato importantissimo nella residenza appunto del Conte di Ilchester Holland House, ma andò disperso in un certo modo comunque in seguito alla Seconda Guerra Mondiale, perché fu un momento di non ritorno, in cui questo tipo di sociabilità aristocratica, culturale, non conobbe più continuità. Il National Art Collection Fund sì, anzi venne tutto devoluto, le vendite del Burlington Finance Club mobili e i pochi beni al National Art Collection Fund, ma certamente il club, come dire, non aveva più un'identità, non aveva più ragione di esistere. Antenato, ora che vi ho un po' raccontato la fine del club che organizzò la sua ultima mostra nel 39, Antenato fu questo Fine Arts Club che dobbiamo all'azione sì di Henry Cole, ma soprattutto di Robinson, Charles Robinson del South Kensington, grande curatore, e di due esperti d'arte, il primo presidente era piemontese di origine e era appunto Emanuele Taparelli d'Azeglio, stessa famiglia di Massimo naturalmente, e anche Carlo Marocchetti, famoso scultore che andava per la maggiore e poi anche barone. Lo scopo di questo primo club di collezionisti era organizzare regolarmente conversazioni e con questo termine in italiano si intendevano queste serate collegate o all'arte o alla scienza, che permettessero di visionare pezzi, in questo caso di arte applicata, quindi era specializzato in arti applicate, sempre portate e prestate dai soci. Ricordiamoci che Robinson un pochino lavorava anche a fare networking per quello che sarà il V&A, che in questi anni, 1851, contava 9.000 oggetti e quindi il club poteva garantire in un certo senso non solo visibilità ma attrarre donazioni, va da sé. E d'altronde già prestarsi a sede di prestiti temporanei a lungo termine, un nome per tutti, George Salting, naturalmente poteva creare il precedente per questo tipo di operazioni. Ora, dei 96 soci iniziali, esperti collezionisti e imprenditori, diciamo così, già dopo pochi anni si arriva a 200. La situazione sfugge un po' di mano, queste serate diventano un po' troppo mondane e un po' poco culturali, per farla molto breve, e i soliti tre, che vedete, decidono di fondare una cosa un po' più strutturata, con una sede, con dei cataloghi, con dei fondi e anche ancora più esclusiva, dove si entrava per ballottaggio e quindi si parla ancora una volta del Burlington Finance Club, quindi nella sua veste definitiva dal 1866. Quindi una rara sofisticazione, incontri informali, condivisione di oggetti e soprattutto una sede. Ora, i membri erano coloro che pagavano la bellezza di 5 sterline all'anno, una cosa comparabile più o meno su un poco meno di 1000 sterline, e erano i sostenitori. Membri invece onorari, per periodi brevi da uno a tre mesi, erano gli esperti d'arte che o organizzavano le mostre all'interno del club, o servivano da consulenti, o semplicemente passavano da Londra e quindi avevano accesso al club. Per fare il gota della storia dell'arte nelle ammissioni al club di questi anni. Per fare solo una rosa di chi un po' menzionerò in questa chiacchierata, vedete che ho scelto un grande collezionista, Cook, un professore a Liverpool e grande fra l'altro alpinista, Conway, esploratore, collezionista, anche autore di letteratura di vario genere e donatore anche di fotografie. Adolfo Venturi, la prima cattedra dal 1901 di storia dell'arte in Italia a Roma. Charles Loser, del quale abbiamo parlato, collezionista di Brooklyn. Forse quello che compare più spesso per questi soggiorni di un mese è quello che viaggiava di più. Bernard Berenson, che non fu mai ammesso come socio permanente al club per una ostilità con Robin Benson, su un'attribuzione Bellini-Basaiti, poi tornò indietro su Bellini e Oral Met, ma insomma era tardi che nel frattempo non è mai entrato come social club. Herbert Percyhorn, già menzionato, Gustavo Frizzoni, a livello di appunto grandi allievi di Morelli, Roger Fry, che non ha bisogno di presentazioni in questo contesto, Pier Paul Morgan, forse il più grande collezionista, quello che almeno spendeva di più in questi anni, e Robert Wheat, che menzioneremo molto per le fotografie. Dunque, nel rigo riservato alla professione, spessissimo, negli archivi si legge profession nun o gentleman, si trattava di una, diciamo, magari mercanti, avvocati, uomini della finanza, anche qualche uomo politico, qualche architetto, qualche editore, qualche armatore, soprattutto la cosa che gli accomunava, che fosse aristocrazia, diciamo, stabilizzata nel tempo, o aristocrazia di tipo imprenditoriale, la cosa che gli accomunava è di essere grandi collezionisti. E quindi è una fortunata alchimia, diciamo, di personalità varie, il Burlington Club, con competenze e mezzi diversi, che ha dato luogo a scambi culturali e a importantissime collaborazioni. Direi che il lascito, il contributo più importante del club, sono state le proposte di studio, ma soprattutto di mostre retrospettive, rassegne curate dai maggiori, che si caratterizzano per novità, novità di taglio, di approccio, per una risposta immediata a quello che si stava proponendo in Europa. Si risponde alla mostra di Siena del 4, si risponde ancora prima alla mostra del 2 di Bruges, di Primitivi, si risponde al catalogo degli avori, con una mostra sugli avori. È un club estremamente reattivo, dove organizzare mostre era, permettetemi, relativamente facile, nel senso che il budget c'era, la sede c'era, i costi di assicurazione non c'erano perché ogni socio era già assicurato, anzi pagava il trasporto in carrozza dei propri dipinti. C'era una notevole agilità, diciamo, nell'organizzare mostre, e questo ha dato veramente spazio a uno scenario veramente vibrante. Durante quindi la sua esistenza, per andare ai numeri, 110 mostre retrospettive sono state organizzate, la metà delle quali stampe, disegni, dipinti soprattutto italiani, ciascuna con al massimo 500 pezzi esposti. Quindi direi al massimo, a seconda poi delle dimensioni naturalmente, di media grandezza. Tanto per dire questa è l'unica foto che esiste del club di Bedford Lemire, è una mostra del 21 della collezione Holford. Fra l'altro collezioni poi andate disperse, quindi particolarmente preziose. Meno numerose a scalare furono le mostre dedicate a ceramica, bronzi, argenti, moneti, vado in discesa, smalti, libri antichi, manoscritti, avori, araldica, tessuti, ricami, pezzi archeologici, terracotte, e permettetemi ci fu una importantissima apertura all'oggettistica e alle arti, alle culture asiatiche, africane, native americane, polinesiane e arte primitiva. Quindi questo veramente ci dà il senso della grande apertura culturale di questa istituzione e proposte che insomma aprirono davvero nuovi scenari. Ora, i soci più o meno l'ho detto, i prestatori chi erano? Beh, la regina Vittoria, l'arcivescovo di Canterbury, anche grandi musei pubblici del nord Europa, anche Bernard Berenson per quanto riguardava le foto, insomma tutti contribuivano, il budget c'era, e a volte anche essere pubblicati sui cataloghi del Burlington costituiva naturalmente, ahimè, una vetrina importante che poi facilitava magari, come nel caso dei primitivi Morgan, una vendita successiva da parte del curatore stesso della mostra del 4, che era Douglas, di cui anche abbiamo sentito. A livello di lascito, quindi, diciamo, non solo le mostre, ma direi anche le pratiche espositive. Le pratiche espositive da due punti di vista. uno si passa dalle mostre tematiche, e siamo nel 1867, la prima mostra di Rembrandt a tema, a una mostra invece organizzata in senso cronologico di lì a due anni, più o meno sullo stesso argomento, giustificando, e qui vengo veramente anche ai tempi attuali, la preferenza per l'ordine cronologico come più utile al biografo, allo studioso e all'esame critico dei pezzi a disposizione. Viene in mente che, appunto, oggi molti musei sono invece organizzati per temi. Tra i criteri curatoriali, anche innovativi, naturalmente voglio ricordare, e qui mi concentro, l'esposizione integrata di fotografie ed opere d'arte. La fotografia, prima ancora di essere riconosciuta come arte, cioè fotografia artistica, quello fu un lungo cammino, fu e fu percepita mezzo di trasmissione di una nuova cultura visiva, un sopporto in grado di rendere immediatamente convincente una bellezza naturale, una spedizione geografica, un'indagine medica, un'indagine antropologica, un servizio sociale, un orfanotrofio, un ospedale, o qualsiasi informazione fattuale contenuta nell'immagine. Quest'uso si sviluppa essenzialmente in seno alle esposizioni. E il fenomeno non è omogeneo. Le esposizioni industriali piazzano la fotografia nel settore commerciale, che è un'industria, l'industria fotografica. È un'industria che fa, diciamo, e rende più dell'industria delle strade ferrate in Europa in questo momento. E, invece, le esposizioni internazionali, diciamo, rappresentano uno spazio dove la fotografia era identità nazionale, era progresso. In seno all'esposizione universale del 1851, la fotografia come medium, come mezzo di documentazione, ottene naturalmente i suoi primi riconoscimenti pubblici e i grandi spazi del Crystal Palace furono teatro, lo sappiamo, di progresso tecnico e forieri di innovazioni tecnologiche. Per quanto riguarda la fotografia, il processo al collodio umido e la stereoscopia. Due anni dopo la chiusura, fu pubblicata i reports delle giurie in quattro volumi, illustrate da calotipie, dei pezzi assegnatari dei differenti premi, naturalmente, nelle varie categorie. Fu una impresa editoriale pioneristica. Riprese fotografiche, in orari di chiusura, 21.000 immagini, stampate individualmente. Un lavoro monumentale che nessun stampatore aveva mai tentato. E, invece, all'interno di The Art Treasures of the United Kingdom, Manchester, nel 1857. Allora, sulla precedente siamo sui sei milioni di visitatori. Qui siamo su un milione e tre, diciamo. Una sezione fu dedicata alla fotografia. Non la vedete bene, ma vediamo se mi riesce. Ovviamente il puntatore è morto, ma è nella foto in alto a destra. Grandi fotografi invitati, 200 tra i dipinti esposti vennero fotografati da Caldesi, Montecchi e Hollett e pubblicati in questi volumi che vi ho in qualche modo visivamente riassunto. Quindi la fotografia esce da questa esposizione in forma, se vogliamo, di ricordo, di memento, di documentazione. Ancora maggiore attenzione si riscontra nella International Exhibition del 1962 dove vediamo Robinson come attore principale, anche se dietro le quinte. Mille stampe fotografiche alle quali fu dedicato un catalogo apposito che vennero comprate. 300.000 immagini, siamo nel 1862, vendute sia dell'edificio sia di ciò che conteneva e tanto per fornire, diciamo, qualche dato. L'industria fotografica era veramente in continua espansione. Al 1862 impiegava 2.000 persone in Austria e un giro d'affari da 3 milioni di fiorini austro-ungarici. 2.500 lavoratori in Inghilterra per un giro d'affari di 4,2 milioni di fiorini, uso la stessa unità se no. E 3.000 lavoratori in Francia per 5 milioni di giro d'affari. In mostra, quindi, in questo caso, non solo erano presenti, diciamo, fotografi per esportare ciò che era esposto, ma, e questo è il lato più interessante, erano presenti raccolte di fotografie di oggetti non esposti. In questo caso, dal Minutolisches Institute di Lignitz in Prussia, un campionario di 4.000 immagini che servissero, diciamo, per la formazione. Inizialmente, in questo caso, erano pensati degli operai delle industrie tessili e le fonderie della Slesia, ma vennero esportate. Non a caso, qui siamo la sede, lo sapete, era vicino al Victorian Albert, dove ora più o meno c'è il Science Museum. Quindi, diciamo, era un luogo dove, di ispirazione all'industria manufatturiera, insomma, se ne dava tanta. Qui veniamo, quindi, a una distinzione importante. Le fotografie che entrano in una mostra e le fotografie che escono. Nel 1862 abbiamo, come ho cercato di illustrare, entrambi i casi. Quindi, le foto dell'esposto e le foto del non esposto. Le fotografie, quindi, di quanto esposto, diciamo, sono generate dall'occasione stessa e l'impatto negli studi, nei ricordi, si spalma per decenni, per non dire per secoli. Invece, qui interessa più la foto del non esposto. La foto, quindi, che rappresenta una palestra, in questo caso, di fonte di ispirazione e, in altri casi, di studio, per chi visita la mostra nel momento intrinseco, nella durata stessa della mostra. Non a caso, questa grande mostra che prevede la compresenza, quindi, di entrambe, l'incoming, si direbbe l'outgoing, era al V&E, dove il direttore Henry Cole, in qualche modo, accolse precocemente, lo sappiamo, la fotografia come mezzo di documentazione, delle collezioni. Questa è la famosa prima mostra di fotografia artistica del 1858. peraltro, non un successo, ma per niente, le recensioni ne parlano malissimo, però ci interessa proprio come momento pionieristico e come offrire il South Kensington, ancora, naturalmente si chiamava così, come sede di mostra. Cosa che né il British Museum, né la National Gallery, naturalmente, facevano. dove erano, quindi, le mostre a Londra, in mille sedi, come ho cercato di affrescare rapidamente, ma ho scelto per voi la Royal Academy per chiara fama, la Grosvenor Gallery per scelte e per i direttori, che poi generarono la New Gallery o le New Galleries, che però, diciamo, avevano anche una ispirazione commerciale e si aprivano anche ai pittori contemporanei. Avevano spesso anche budget molto più modesti, ma comunque erano mostre di grandissimo successo. Ora, le stampe e i disegni erano tra i generi più collezionati, quindi non stupisce che tra i membri del Burlington Finance Club figurassero grandi collezionisti. E quindi, per esempio, ecco che veniamo alle mostre del Burlington Club, che niente ha a che vedere col Burlington Magazine, se non un primo indirizzo in una zona, diciamo, che aveva a che fare con Burlington House, in questo caso. una mostra, quella dei disegni di Raffaello e Michelangelo del 1870, che conta 817 visitatori, quindi veramente di nicchia, dove molte erano le foto prestate da Leighton, Leighton ha messo non in quanto pittore ma in quanto collezionista di arte orientale, e, tra le foto di grande formato, la famosa campagna del 1869 Brown, degli affreschi di Raffaello e Michelangelo in Vaticano, appunto, a completare un quadro di disegni autentici che era in sede. Quando 30 furono ritirati dalla regina Vittoria, furono sostituiti da fotografie. E le foto, quindi, che sono assenti dal catalogo in questo caso, ma erano percepite e condivise in mostra come un ottimo sostituto all'originale. Anche grazie a raffinate tecniche di stampa per cui i fotografi, diciamo, riuscivano a produrre misure identiche, tonalità molto simili agli originali, specie di facsimile, diciamo. L'iniziativa della regina, quindi, non stupisce, naturalmente, perché campagne fotografiche erano finanziate e sostenute dalla Casa Reale, in particolare dal principe Alberto, nota l'impresa di far fotografare l'opera omnia di Raffaello, che costituì una palestra e un'impresa monumentale ampiamente studiata. Per quanto riguarda la presenza di foto in eventi forse un po' meno esclusivi, io vorrei ricordare, a parte una mostra di Bruges di cui veramente nel 1867 non è rimasto quasi niente, questa del 1871 di Dresda, dedicata a Holbein il Giovane, che nasce proprio dalla volontà di comparare due versioni della Madonna Mayer e stabilire qual'era la copia e qual'era l'originale. Alla fine, svello subito, che quella di collezioni pubbliche di Dresda è considerata la copia cinquecentesca, si trova anche chi, e invece quella in mano tuttora, private, è quella originale. Ma veramente il gioco attributivo non solo passa di mano dagli artisti che erano i curatori dei musei agli storici dell'arte, che organizzano un convegno durante la mostra per discutere di questa attribuzione, ma passa anche al grande pubblico. Come vedete ci sono cannocchiali, signore, grandi acquisti di fotografie, erano 284 le fotografie in mostra nel 1871 a Dresda, 50 di dipinti, e per l'occasione vennero commissionate foto anche all'estero, a Vienna una ventina e, morale della favola, 51 dei dipinti proposti come originali, alla fine dei 51, 14 solo, passarono al vaglio degli esperti. Quindi una palestra, e queste cifre parlano chiaro, di attribuzioni. Nel 1893-94 alla New Gallery, grande mostra di arte italiana dal 1300 al 1550, un catalogo, vedete il libretto aperto, che è una lista di didascalie di 1500 pezzi esposti, ma per permettere lo studio si fece uso consapevole del mezzo fotografico, creando questi portfolios, che ho aperto per voi, con 28 calotipie di dipinti che accompagnava in qualche modo il catalogo, ma che poteva essere acquistato separatamente, come separatamente ciascun cartone, per cui si raccontava in qualche modo una storia dell'arte italiana per immagini e senza parole. Alcune volte gli album fotografici furono stampati a un anno di distanza dalla mostra, è il caso di Venetian Art, sempre alla New Gallery. Ora, in certi casi le mostre, sempre parlo di grandi eventi aperti a un pubblico ampio, in questo caso 35.000 persone a Bruges videro la mostra sui primitivi fiamminghi, ci fu una iniziativa commerciale di Brown che si offrì di fotografare alcuni 125 dei 400 dipinti esposti. Grazie a queste foto conosciamo opere che di lì a pochi anni, nella prima guerra mondiale, vennero distrutte, e lo vedete a destra da Ypres nella Marna. Quindi, naturalmente diverse sono il valore e la funzione delle fotografie quando sono immesse e proposte all'interno del materiale espositivo, a volte documentazione, a volte integrazione visiva di un insieme, per esempio un politico, si mette una foto dentro un elemento di predella che manca, oppure come completamento di un corpus, oppure a freschi intrasportabili. Ora, per la presenza di fotografie all'interno di una mostra, apripista sicuramente fu la mostra del Burlington Club del 1994 sulla scuola di Ferrara e Bologna, visitata da 2450 persone e organizzata da Adolfo Venturi, a livello di mente, ma voluta, fortemente voluta, da Robin Benson. Non solo Cook, ma Frizzoni, Layar, Berenson fornirono suggerimenti e foto, e ci fu una campagna fotografica del club di 15 sterline per sostenere la mostra, e ci fu un invito allo studio all'interno di questa mostra, che è percepibile dal catalogo a stampa. Il catalogo è a stampa e ha illustrazioni dei pezzi esposti. Ma c'erano sei album su un tavolino, c'erano pannelli con grandi foto montate di confronto, c'era centinaia di foto come palestra per l'occhio, e veniva, diciamo, suggerito il confronto all'interno del catalogo con una serie di asterischi all'interno delle liste dei cataloghi ragionati dei pittori di ciascun esponente di questa scuola di Ferrara Bologna, cataloghi ragionati preparati da Cook ma aggiornati sugli ultimi studi di Adolfo Venturi, e si indicava esattamente dove si trovava la foto di quel dipinto. Per cui si suppone che in mostra il conoscitore, il curioso, aprisse il catalogo e andasse poi a cercarsi la foto o nell'album o sul muro. Questo è proprio un invito, un invito allo studio, un invito al confronto e all'attribuzione. E in questo senso questa mostra ha aperto un mondo. e questo fu poi sistematicamente riproposto tra le mura del club per decenni. Naturalmente non ci stupisce che tra i membri del club figurassero grandi sostenitori della fotografia, Robinson, Cole del South Ken, appunto, Venturi stesso, per dire, ma anche abbiamo visto Witt, abbiamo visto Conway. E per certo Benson, che era un collezionista, un banchiere, in qualche modo autodidatta per quanto riguarda la storia dell'arte, esalta questa novità proposta dell'uso delle foto comparative e illustra una sua idea di conoscitore. e dice che all'occhio allenato e talentuoso una tecnica è altrettanto chiara come una fisionomia. Il colore è distintivo come il timbro di una voce, quindi compara l'opera d'arte a qualche cosa di animato, a un uomo, a una persona. Quindi, nell'opinione di chi scrive, l'analisi del ritmo della composizione, della scala dei colori, dell'impasto, della pennellata, dei pentimenti. In una parola, l'analisi del dipinto, se il restauratore l'ha risparmiato, è, diciamo, causa meno confusione e va più in profondità del metodo antropometrico. e qui, naturalmente, l'allusione è al metodo morelliano. Veramente, Benson fu uno dei pilastri del club, fu uno dei grandi ideatori delle mostre del club, grande collezionista, poi sappiamo che nel 27, per ricapitalizzare la banca, vendette i suoi dipinti, ma fu veramente l'anima, insieme a Cucchi, insieme ad altri pochi, dell'altissimo livello delle operazioni proposte all'interno del club. Come ho detto, foto continuano a essere un invito allo studio, sia nella mostra sulla scuola milanese, dove l'autorità di riferimento, ombra però, è Gustavo Frizzoni, sempre voluta da Benson, e quindi erano presenti, vi ho un po' ingrandito, non so se leggete, i prestatori, soprattutto Cucchi, qui erano organizzate in album, ma anche foto si fanno arrivare da San Pietroburgo, grazie a una ditta, che naturalmente aveva tutto l'interesse poi a, diciamo, promuovere la sua produzione, e anche continuano a tre album fotografici, che poi furono donati e fecero parte della biblioteca del club, erano presenti sul tavolino nella galleria, nella mostra del 4, e anche in quella del 19, sulla scuola fiorentina anteriore al 1500. solo per dirvi che era un percorso che cominciò nel 94, ma proseguì per decenni. Uno scopo leggermente diverso, invece, quello di confronto, ma anche, diciamo, di aiuto al collezionista, si ebbe all'interno della mostra di falsi e di imitazioni, che si tenne al club nel 24. Anni caldissimi, naturalmente, dove i collezionisti erano esposti al rischio di raggiro, e quindi direi che, ancora una volta, le mostre sono un'operazione interna al club, pensata da soci del club, il catalogo scritto da soci del club, con solo l'ausilio di consulenti esterni, finanziato dal club, e, in questo caso, di uso e consumo del club, nel senso che, anche chi aveva dei falsi, li metteva a disposizione, per condividere, magari, un errore fatto, insomma, un raggiro subito. e Witt, in questo caso, che noi sappiamo essere una delle anime della Witt Library del Courtauld, naturalmente una delle più grandi fototeche del mondo, prestò, mi sembra, in questo caso, fossero scatole, e quindi ancora più duttile, invece dell'album, diciamo, l'utilizzo delle fotografie, e vediamo un po' anche come venivano usate le foto in questa mostra di falsi. il Fogart prestò la Pietà di Crivelli integrata, come vedete, nella parte sinistra della slide, e a destra c'erano, quindi, vicino al dipinto in originale, che veniva dall'America, c'erano le foto dell'acquisto Lasta Nevin e del progetto di restauro, poi fatto da Luigi Cavenali, che più che restauro si tratta di un'integrazione talmente ampia da sconfinare, naturalmente, col falso. E questo, il Fog premetto che comprò Paul Sachs sapendo, cioè, compravano i falsi come esercizio per gli studenti, anche, cioè c'era proprio una volontà in questo senso, se non si tratta di un reggiro. Altra situazione fu, sempre all'interno della Mossa del 24, proposta con, diciamo, la Pala Barbadori dell'Uvre in foto, accanto a un pastiche che oggi sappiamo essere di Giuseppe Catanichiti, di ubicazione sconosciuta, naturalmente, che ha poi sparito, però una situazione analoga con la Vergine Stante, naturalmente i Santi inginocchiati, in modo da promuovere un confronto, come dire, costruttivo e istruttivo. D'altronde, permettetemi di dire, che anche i falsari studiavano le fotografie, e molto bene, perché chiaramente non potevano andare apertamente in galleria a copiare. Oppure i falsari si rivelarono, in questo caso a Harold Parsons, un agente del Cleveland Museum of Art, al Ceodossena nel 28, si rivelò grazie a queste fotografie. Evidentemente le sculture erano già nei musei del mondo, però la confessione apertamente avvenne con questo tavolo riempito di foto. Quindi le foto non solo erano utilizzate da chi era raggirato, in qualche modo, ma anche da chi raggirava banalmente. Ora, se le esposizioni londinesi di cui ho parlato finora erano veramente di nicchia, qualche migliaio di persone, diciamo anche nelle esposizioni di arte antica di grandi numeri, 43.000 visitatori ad Amsterdam nel 1898, si fa uso di fotografie. In questo caso le prestosse del Meyer, questo mercante editore importante, anima del corpus, dell'inizio di un corpus, insomma una lunga operazione in qualche modo ancora in corso, ho scelto solo tre così simboliche, il bellissimo trasporto, sono vicini due musei, ma insomma ha del rituale, no? La veglia di notte che passa dal Reichs allo Stedelijk, e poi qui in alto vedete il cavaliere polacco che poi passerà al Frick, e nella porta si intravede la vecchia che si taglia le unghie che poi va al Metropolitan, quindi c'è una esportazione anche a seguito di questa mostra, e direi anche che talora la presenza di fotografie in un'esposizione è semplicemente per fornire un repertorio, ma non un repertorio di ispirazione per l'industria manufatturiera. In questo caso ci sono pochissime foto, ma siamo a Düsseldorf nel 1904, Haseloff, che era storico dell'arte e ottimo fotografo, propone 36 fotografie di miniatura renana, quindi a testimoniare una tecnica sul territorio. Ora, in certi contesti, accanto a, come vedete, migliaia di pezzi originali, però in certi contesti le opere d'arte originali mancavano del tutto. E allora l'impresa di far fotografare, per esempio, tutto Raffello, di cui ho già accennato, creò i presupposti per una mostra didattica di sole riproduzioni delle opere di Raffaello, organizzata alla Walker Art Gallery di Liverpool nel 1887, guardate caso, da William Martin Conway, quel professore dell'University College, alpinista, collezionista d'arte, che alla sua morte regalò centomila fotografie al Courtauld e integrò, veramente integrò, la fototeca di Witt. Il visitatore, quindi, poteva apprezzare a Liverpool, come dire, l'evoluzione di Raffaello da fotografie, da riproduzioni disposte in ordine cronologico, una mostra didattica. Il catalogo, poi, elencava le opere note del pittore e i nomi dei fotografi, in modo da poter, poi, potersele comprare, in qualche modo. Affini alle mostre didattiche, ma, aiuto, di taglio più generale o di una vita leggermente più lunga, furono i musei didattici ispirati, voluti, allestiti da John Ruskin nelle zone, anche così, le periferie industriali, per educare il pubblico alla bellezza attraverso jazz, copie, fotografie, ancora una volta. Sparirono nel giro di pochi anni, di solito. Ora, se le esposizioni di fotografie a fine divulgativo e didattico all'interno delle biblioteche del New England, per esempio, sono state ampiamente studiate da Julie Brown, e qui basti citare un caso. Vedete, alla sinistra della porta, le opere di Byrne Jones, che era appena morto, e a destra le bellezze dell'Inghilterra. Siamo nel Boston Public Library, nel 1898 ci fu un consorzio importante nel New England di biblioteche che affittavano, naturalmente, fondi, diciamo, fotografie, per organizzare mostre, portare gente in biblioteca e far vedere le opere d'arte, stando a Cutter, un grandissimo biblioteconomo, far vedere opere d'arte a gente che un libro d'arte non l'avrebbe mai aperto. scusate, ma questa è una cosa di un'apertura e di un'innovazione, c'entra poco, ma sia qui che a Worcester c'erano gabinetti di sviluppo fotografico, gratuiti, a disposizione dei lettori della biblioteca, che a mio avviso è di un'apertura culturale straordinaria. Allora, queste sono sempre mostre didattiche, veramente per il grande pubblico, no? Ma ci furono anche delle mostre, sempre dove gli originali mancano e quindi la fotografia supplisce in maniera totale all'originale, ci furono delle mostre didattiche sui campus universitari. Ne ho trovata una di cui veramente niente si sa, non lo sanno nemmeno, l'abbiamo cercato in tutti gli archivi del campus, niente. Comunque, nel 1908 al Bremmore College, che è in Pennsylvania, ci fu una mostra di 500 foto in bianco e nero di old masters, old masters, foto presenti sul suolo statunitense. Premetto che la presidente di questo college, quindi insomma il rettore si direbbe, era la cugina di Mary Logan Berenson e chi prestò le foto erano niente meno che Frick, Gardner, Holden, Huntington, Johnson, Norton, Platt, Walker e Widener. E con 500 foto si insegnava agli studenti in qualche modo a destreggiarsi tra i dipinti dal 3 al 600 più o meno. Ora, non avendo trovato la foto, ho ottenuto i diritti di questa da Harvard, che un pochino, diciamo, per chiudere, suggerisce l'utilizzo delle mostre fotografiche all'interno delle istituzioni universitarie, qui siamo nella cortile del FOG naturalmente. è molto successiva, però ho cercato di tracciare, diciamo, un affresco di quello che offriva Londra, di come Londra ha proposto in maniera sistematica, articolata e scientifica l'utilizzo di foto all'interno delle mostre, mettendole in relazione a mostre che si svolgono in altre zone d'Europa, anche per il grande pubblico, anche, diciamo, in modo innovativo. ma direi che proprio la traduzione di opere d'arte in fotografie, e questo è anche un omaggio un po' alla Fototeca Zeri, che mette a nostra disposizione online migliaia di fotografie, è ciò che ne garantisce la visibilità, nel mondo accademico, nel mondo scientifico, anche per il grande pubblico. Le immagini rendono veramente accessibili, condivisibili, analizzabili le opere al di fuori del luogo dove sono conservate. Senza niente togliere al valore delle visite in situ che tutti questi professori e gli esperti sempre suggeriscono in primis, le fotografie e ancora di più le Fototeche contribuiscono a formare un repertorio, un patrimonio, direi, mentale di immagini per i singoli studiosi che negli anni ampliano e al quale attingono nel corso delle ricerche a livello più o meno consapevole, integrando talora alla memoria visiva l'analisi di fotografie sparse su un tavolo, su un pavimento, su una parete, in un museo immaginario, e sappiamo, per esempio, che Berenson, stando alle poetesse, diciamo, Michael Fields, che lo frequentavano, ancora prima dei tatti, studiava a Villa Krauss a Fiesole con le foto sparse sul pavimento. Quindi sono immagini, sia le immagini mentali di opere d'arte catalogate nella memoria naturalmente visiva di un conoscitore, sia quelle, si differenziano da quelle su carta fotografica, nel senso dal supporto, dalla matericità, perché una è sul supporto di carta e l'altra è semplicemente mentale, una è catturata dall'obiettivo del fotografo e l'altra è frutto di uno studio, ripeto, magari verificato e controverificato, ma sono in entrambi i casi veramente trasposizioni di un fatto artistico in immagine. E quindi l'operazione di trasposizione permette una serie di analisi, di comparazioni, attribuzioni e fa di entrambe le fototeche reali e mentali, materiale fondante per il mestiere di conoscitore. Grazie.